Ciao a tutti e buon martedì. Allora, non ho fatto riassunti da un po' di tempo e quindi sono andata a vedermi un po' cosa è accaduto in quel di Milano per quanto riguarda la nostra famiglia di superstar, e cioè i Dalimberti. Allora, sono andata a vedermi Davide per primo e ho visto che ha postato quattro vlog, e cioè ho preso una decisione importante che è di quattro giorni fa, andiamo dal parrucchiere a tagliare i capelli che è di tre giorni fa, My follower control my life, i miei follower comandano la mia vita per un giorno che è di due giorni fa, e super video spesa fatto da Carrefour, molti molti sconti che è di un giorno fa. Allora, io direi di partire subito con ho preso una decisione importante perché sembrerebbe il video più interessante, diciamo. Allora, vediamo che Davide è in strada, ha una maglietta nera e il codino, si sente una vocina, lui inquadra la macchina e c'è Chiara seduta dentro, dice che sono a ritirare in un pacco, in un centro autorizzato, il pacco è di Sheen, perché come dice spesso lei, i corrieri dicono che non sono mai a casa e quindi i pacchi li lasciano appunto a questi centri autorizzati o alle poste, quindi sono andate a ritirare questo pacco. Dopodiché andranno a fare un giro da S.Lunga per prendere i crackers a Luciana. Dicono che hanno rimandato le vacanze, però insomma soltanto rimandate, la faranno a giorni. Questo vlog è di quattro giorni fa e la partenza ancora non è stata stabilita, quindi vedremo quando e se partiranno. Dopodiché cambia inquadratura e cambia anche giorno perché questo vlog, come al solito, è fatto di tante giornate, tanti piccoli momenti di giornata messi assieme. Non ci è dato neanche di sapere quanto tempo sia passato perché lui, mentre parla, si impappina. L'unica cosa che è certa è che sono da Primark. Lui dice che andrà da Footlooker perché ci sono delle scarpe nuove, a quanto pare si è rifornito, e dopodiché andrà anche al centro Apple. Ci parla ovviamente anche del tempo e poi si riprende mentre entra al centro commerciale e di buon passo si avvia verso Footlooker. Qui entra, ci mostra la merce e poi subito dopo la merce di Footlooker inquadra anche dei telefonini. Evidentemente è uscito da Footlooker e insomma ha inquadrato questi telefonini in un altro negozio. Dopodiché ci dice che comunque andrà al centro Apple. Qui comincia a riprendere anche la merce, riprende diversi PC. Ci fa vedere un PC che costa 8.499 euro, dopodiché inquadra anche i telefonini, i televisori, insomma di tutto di più. Esce e mentre cammina nel supermercato allibito da tanta tecnologia che ha trovato da Apple, parla anche del cellulare 15 Pro Max. Dice che hanno abbassato i prezzi, tanto che il 15 Pro Max costa meno del 14. Quindi se volete fare un affare non perdete assolutamente tempo. Ci fa sapere anche chi ha chiesto per quanto riguarda il microfono del cellulare della moglie, perché si sente sempre molto basso, insomma. Hanno detto che bisogna vedere se ha qualche problema, quindi bisogna portare il telefonino in loco. Nel frattempo è arrivato da Primark, è sudatissimo, praticamente le gocce di sudore gli cadono dal viso. E la moglie, insomma, gli mostra una maglietta di Ken che probabilmente avrà acquistato, perché a lei piace tantissimissimo e lui la deve mettere per fare, insomma, la coppia Barbie e Ken. E dopodiché lui ci racconta che l'hanno fermato due fan, hanno fatto una foto e un video insieme a lui, e poi hanno chiesto dove era Chiara, lui le ha accompagnati da Primark e hanno fatto la stessa cosa anche con Chiara. E lui è contentissimo, è al top, è all'Oiea. Dopodiché cambia inquadratura e ce lo ritroviamo fuori dal balcone, con questa macchia che è sempre più vistosa, sempre più marrone. Io non capisco come mai non la vedono, cioè per Chiara questa macchia si sta, come dire, omologando, ma probabilmente perché sta prendendo ormai tutta la fronte. E in tutto ciò, qual è la decisione importante che ha preso? La decisione importante che ha preso è il computer della moglie ha deciso quale comprarle. Lui lo sa quale dovrà comprarle, lei no. E noi ci crediamo tutti che Chiara, insomma, lascia decidere al marito quale computer comprarle. E andiamo al secondo vlog. Andiamo dal parrucchiere a tagliare i capelli, questo è stato fatto tre giorni fa. Lo vediamo sulla poltrona, capelli sciolti, barba incolta, canotta bianca. E insomma, si vede questo parrucchiere che comincia a pettinargli i capelli, mettendoli insomma da una parte, un po' del tipo ti faccio una pettinatura a schiaffo. Un po' quello che vorrebbero fargli tante persone. Non parlo della pettinatura, parlo dello schiaffo. E mentre Davide è lì seduto, Chiara fa i complimenti al barbiere, gli racconta anche delle treccine che si è fatto il suo adorato maritino, e questo povero Cristo, insomma, nel frattempo sforbi. Cioè, povero Cristo intendo il barbiere, ovviamente. Cambia inquadratura. Stanno per entrare in un supermercato e dice che andranno da Carrefour per ritirare la spesa. Solita ripresa all'interno. Dopodiché guarda in un negozio delle ciabatte, delle mutande e delle magliette di paperino. Quindi molto, molto, molto serie. E poi lo ritroviamo seduto in casa, sulla poltrona, in tutto il suo splendore. Capelli fatti che personalmente mi ricordano un po' un istrice abbracciato a Kim Jong-un. Proprio non si capisce. Veramente è una brutta, brutta, brutta pettinatura. Almeno per quanto mi riguarda. Poi, ovviamente, i gusti sono gusti. In ogni caso, lui invita tutti quanti ad iscriversi al suo canale, anche ad Instagram per quanto lo riguarda, perché, insomma, lui farà una giornata controllata dai suoi follower. E quindi invita tutti a iscriversi. Però, attenzione, perché non siete voi che direte cosa deve fare o meno. Sarà la moglie, cioè Chiara, che proporrà tramite un sondaggio le cose che dovrebbe fare Davide e voi, insomma, votando deciderete cosa deve fare. Quindi sarà Chiara a proporre e voi, insomma, a votare. In ogni caso, dice che in passato si sarebbe vergognato di fare determinate cose, ma ora no, perché questo, insomma, queste cose l'hanno fatto divertire. Hanno fatto divertire lui e i suoi follower, quindi evidentemente già l'ha fatto questo video, anche se è uscito prima questo e poi uscirà l'altro. Un po' un macello, ragazzi. Dice che le persone gli vogliono molto bene, perché lo seguono. Ringrazio anche la moglie per avergli fatto fare questo video, perché ha tirato fuori il lato fanciullesco che è in lui, come ha sempre fatto, perché, insomma, Chiara alla fine ha tirato anche il lato fanciullesco fuori che era quello del suo ex fidanzato, quindi lei, insomma, periodicamente tira fuori sto lato fanciullesco. E io me la immagino proprio come il video del non partire, che dice, insomma, fai questo! Vabbè, ma questi sono dettagli. Invita ancora ad iscriversi specialmente nel suo canale, perché tanto una moglie comunque è una star, e quindi, a quello che ho capito, lo vuole diventare anche lui. Quindi, ragazzi, facciamo diventare quest'uomo un dado star. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Dopodiché, insomma, ci dice che la moglie gli farà anche le sopracciglia. Saluti e ciao! E andiamo a quello che dovrebbe essere il video divertentissimo, e cioè My Follower Control My Life. Allora, ragazzi, citando Primo Levi, io direi se questo è un uomo, sinceramente, perché, come tante altre persone, perché poi ho letto anche i commenti, mi sono resa conto che questo video è stato veramente penoso, nel senso che quest'uomo a me ha fatto pena. Incomincia il video che lui è seduto in poltrona, ha ancora i capelli lunghi, perché, come vi ho detto, insomma, hanno suddiviso questi video in diversi giorni, quindi hanno pubblicato prima quello dove si è tagliato i capelli, e poi quello dove hanno fatto questi follower che controllavano la sua vita, quindi è un po' ingarbugliata la cosa. In ogni caso, cambia l'inquadratura, stanno camminando, lui si è fatto le codine alla Candy Candy, e si nota palesemente il suo imbarazzo. A un certo punto, conciato in quel modo, va pure dal dottore, poi cambia inquadratura, sono per strada, si inquadra, dice che lui somiglia ad una cheerleader, io direi più a una lurch leader, visto, insomma, come è un pochino messo, non dà proprio la sensazione di fresco e di pulito, scambiano qualche parola con un passante, non si capisce bene, insomma, cosa dicono, finalmente si ritrova dal barbiere, e siccome quando si va dal barbiere, barra parrucchiere, si fanno delle domande al povero malcapitato, lei fa fare una domanda, che direi veramente interessantissima, intelligentissima al barbiere, e gli fa chiedere se conoscono qualcuno che si può occupare di una ceretta completa, e dopodiché se la ridono anche, qualcuno ha detto molto scortese questo modo di comportarsi, cioè fare una domanda a qualcuno che praticamente sta lì per lavorare, non sa cosa state facendo, e poi insomma ridacchiare pure, sembra che lo stessero prendendo in giro. In ogni caso, cambia ancora inquadratura, e si vede lui che si sta comprimendo nella tazza della giostrina di Hello Kitty, la giostrina che è a supermercato, che abbiamo visto diverse volte, ci riesce, riesce ad entrare in questa tazzina, direi con molto sforzo, e anche con molto dolore, e comincia a girare, con l'entusiasmo orchestrato da Chiara, perché gli dice, entusiasmo, entusiasmo, più entusiasmo, di Hello Kitty, da Hello Kitty, ciao Hello Kitty, insomma ragazzi, qualcosa di veramente obrobrioso. In ogni caso, finisce questo giro, fortunatamente, lui riesce ad uscire dalla tazzina, si sente un... Dopodiché, si ritrovano al parcheggio dell'Esse Lunga, e che cosa faranno mai al parcheggio dell'Esse Lunga? Insomma, lui deve entrare con una banana, con una buccia di banana in testa. Deve entrare con questa buccia di banana, e dopodiché, cosa farà? può buttarla, potrà togliersela soltanto, quando arriverà al reparto frutta, e quindi a una delle cassette dell'immondizia, diciamo, del reparto frutta. Lui si mette questa banana in testa, lui dice, sembra un pirla, no caro, non è che sembri un pirla. In ogni caso, incontrano al detto dell'Esse Lunga, che ovviamente ride, lui gli dice, facendo cenno la buccia di banana, insomma, che lo fa per lavoro. Io penso che il povero al detto dell'Esse Lunga si starà domandando, si sia domandato, che cacchio di lavoro fai, cioè, comunque, passa, insomma, lui cammina per questo supermercato, cerca di coprire la banana, la buccia di banana, perché ci sono diverse persone, si nota effettivamente, ragazzi, che c'è dell'imbarazzo. Lui dirà poi che si è divertito, ma sinceramente, a me non sembra proprio. In ogni caso, finalmente arrivano al reparto ortofrutta, lui può buttare, finalmente, questa buccia di banana, insomma, finalmente è finita questa agonia. Lo ritroviamo fuori dal balcone di casa sua, che, insomma, ci parla del video, dice che è stato divertente, che si è divertito tantissimo, effettivamente, ragazzi, guardate, a vederlo si vede che si è proprio divertito, secondo me, sarebbe stato meglio dargli veramente una cragnata, che non fargli fare quelle cose lì. In ogni caso, ci dice che il prossimo vlog, di questo tipo, sarà, insomma, la moglie a dover subire, e lui, in qualche modo, insomma, a fare le proposte ai follower. Dopodiché, c'è un altro video, cioè, super video spesa, fatto da Carrefour. Io vi dico sinceramente, questo video non l'ho visto, perché tanto, ragazzi, è sempre la stessa cosa. Comprano porcellosità, non finire, comprano mozzarella, comprano, come si chiama, salamini, insomma, tutte queste cose qui, alla fine diventa anche un attimino pesante, seguirli. Quindi, io direi, le cose più importanti le abbiamo viste, quindi, per questo video salutiamoci, e presto vi farò il riassunto, per quanto riguarda, quelle cose fatte da Chiara. A questo punto, io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, e a presto. Ciao.